Lettera del Comune di Castiglion Fiorentino a firma del Sindaco Mario Agnelli e dell'Assessore Chiara Cappelletti a poste italiane dopo la comunicazione di un'ulteriore riduzione d'orario, questa volta a carico dell'ufficio postale di Manciano. Come già avemmo modo di segnalare in data 30 luglio 2020, senza peraltro, inizia la lettera, ottenere il benché minimo riscontro, qualsiasi riduzione di orario degli uffici e o di apertura al pubblico stona ed anzi cozza inevitabilmente con il divieto di assembramento di persone. Logica, prosegue la lettera, vorrebbe che per evitare code e disagi all'utenza, che notoriamente corrisponde in buona parte a quella fascia di persone definite fragili in quanto anziane, gli orari degli uffici fossero dilatati quanto più possibile, in modo da agevolare il contingentamento e il distanziamento. In pratica, dopo la riduzione dell'orario dell'ufficio centrale, quello ubicato in piazza del municipio, che dall'inizio della pandemia è aperto sostanzialmente solo al mattino, in questi giorni è arrivata al Comune la comunicazione di un'ulteriore riduzione dell'orario di apertura, questa volta dell'ufficio di Manciano. L'amministrazione comunale auspica un ripensamento da parte di poste italiane. Questo è il senso della lettera.